Della seconda edizione della Special Eleven Cup Avvicinatevi, non vi mangiamo Anche in ordine sparso, tanto è uguale Avete tutti la medaglia Vai Stefano Però è la foto, per la foto Facciamo tutti e due per la foto Ok Vai, foto al centro Vai Seconda medaglia Per la stampa Vai con la terza Eccolo Andrea ma vinci sempre Alla prossima edizione Se partecipa vogliono tutti Andremo Cazzaro Porta bene Olè 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 Vai un'altra medaglia Eccoci qua Eccoci qua E' la sinistra E' la sinistra E' la sinistra We are the champions, no time to lose, yes we are the champions of the world. David Rogli, it's the honor to be the best player of Milan. This is the responsibility. Bomber Marini. Bomber Marini ha il trofeo, il miglior giocatore di questa edizione per quanto riguarda il Milan. Foto di Rito. Michael Bomber. Ok, ragazzi, una foto di gruppo vincitori. Disponetevi. Mai Roberto. Ci amiamo con noi. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.